Amori tossici, come riconoscerli e liberarsene? Allora, gli amori tossici sono quelli che inquinano la nostra emotività perché sono rapporti che schiacciano, deludono, sfiniscono, che tolgono energie senza mai dare. Alla fine ci si sente prosciugate e prosciugati e bisogna trovare la forza di liberarsene perché questi amori tossici distruggono la nostra vita. Quali sono gli amori tossici? Beh, sono quelli che prendono senza dare. Sono le persone che non ci trattano come vorremmo. Ci sono mille modi in cui si manifestano gli amori tossici. Ad esempio persone che magari quando vogliono farsi i cazzi loro cercano della litigata per poi farsi i cazzi loro. Questa è una strategia basica, diciamo, che molte persone utilizzano. Vanno alla ricerca del litigio per poter avere poi, diciamo, chiudere un attimo la relazione e si fanno i cazzi loro. È una tipologia di comportamento narcisistica. Gli amori tossici sono quelli che ti succhiano energie, che non ti danno fondamentalmente, che quindi li riconosci già se vedi che il comportamento è un comportamento squilibrato, non è un comportamento regolare. Persone che spariscono, poi riappaiono, poi rispariscono. Persone che si lamentano sempre. Persone che si propongono, diciamo, in modo schizoide, schizofrenico, con comportamenti destrutturati, piacciono proprio per quello, perché danno questa tipologia di emozioni. Persone anche, se vogliamo, che non ti danno la priorità, ma che danno priorità a un sacco di altre cose, e tu vieni sempre per ultimo. Ecco, quando ci sono queste caratteristiche, vuol dire che l'amore è tossico. E come devi liberartene? Semplicemente prendendo atto del fatto che l'amore è tossico e dando valore a te stessa, dando valore a te stesso, dando valore alla tua dignità. E in questo modo te li puoi togliere tranquillamente dai coglioni. Perché ti fanno solo perdere tempo, di fatto. Ti fanno solo perdere energie. E in alcuni casi ti fanno pure perdere soldi, perché magari sono persone che, le quali dedichi anche attenzioni di altro genere. Quindi soltanto l'amore per te stessa, l'amore per te stesso ti impedisce di dar corda a questo. Meglio essere indifferente. Né sviluppare rabbia, né sviluppare attaccamento. Soltanto indifferenza. E vedrai che le cose miglioreranno. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.